Dunque ragazzi, oggi parliamo del RERA, Real Estate Regulatory Agency, ed è non altro che una parte del DLD, Dubai Department, che ha proprio l'obiettivo di regolare il mercato. Sono state delle novità negli ultimi mesi, ad esempio il numero di annunci per singola proprietà sui portali, ad esempio l'obbligo del RERA con l'esame per tutti ogni anno, per gli agenti, insomma una serie di cose che il RERA fa proprio per dare trasparenza e fiducia agli investitori in questo mercato dell'immobiliare qua a Dubai. Quindi il ruolo del Real Estate Regulatory Agency è molto importante e un'altra cosa che fa, per esempio, gestisce le dispute che possono nascere fra proprietari di casa e inquilini e anche di quanto possono essere aumentati i prezzi degli affitti delle case in base al mercato. Quindi rimanete aggiornati e per il vostro investimento a Dubai contattatemi perché ci sono tante cose che vi posso suggerire. Ciao a tutti!